In questa situazione di emergenza le forze politiche responsabili hanno dato vita all'unico governo possibile, questo governo di solidarietà nazionale. È la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che può dar vita ad una collaborazione tra forze politiche avversarie per vincere la difficile lotta contro la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche e sociali. Forza Italia partecipa a questo tentativo con lealtà, con convinzione, con spirito costruttivo, perché questo non è il momento certo per pensare all'interesse di parte. E questo non cancella però le profonde differenze che distinguono Forza Italia da tutti gli altri movimenti politici, dai nostri avversari della sinistra, ma anche dai nostri alleati del centro-destra. Forza Italia è qualcosa di unico, che non è mai esistito prima nella nostra storia italiana e che non è paragonabile a nessun altro movimento politico. Siamo l'unica forza politica che ha un'identità chiara, che non ha mai dovuto cambiare linea, che non è dilaniata da conflitti interni sulle idee e sui programmi. Chi altro in Italia si ispira ai valori della libertà, del cristianesimo, del garantismo e all'amore per l'Europa? Chi altro in Italia può dirsi davvero liberale, cristiano, garantista, europeista? Chi altro ha professato queste idee per 27 anni senza mai cambiarle, senza mai doverle mettere in discussione, senza mai contraddirsi? Nessun altro. Per noi la famiglia, il lavoro, l'impresa, lo Stato di diritto, l'Europa non sono parole vuote, sono i nostri valori, sono il nostro modo di essere, sono la nostra vita anche fuori dalla politica. Per questo oggi possiamo partecipare a questo governo con la forza delle nostre proposte in difesa delle famiglie e delle imprese. La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strata imboccata è sicuramente quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimento per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici a teco per i risarcimento, i congedi parentali immediati e il contributo per le babysitter quando le scuole sono chiuse. Sono passi concreti del governo sulla strada giusta, quella indicata da Forza Italia.